Si sono svolte nella sede pisana della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest le premiazioni del Premio Storie di Alternanza, giunto alla sua sesta edizione ma alla prima nella veste comprensoriale attuale. Quattro gli istituti che si sono aggiudicati l'assegno da 500 euro con la realizzazione di un breve video in cui venivano descritte le esperienze di progetti relativi all'alternanza scuola-lavoro. Per gli istituti tecnici e professionali l'ITC Carlo Cattaneo ha disaminato con oltre le barriere il percorso realizzato in collaborazione con la Fondazione Bocelli che ha portato i ragazzi a conoscere i territori di Israele e Palestina prima dello scoppio della guerra. L'Istituto Barsanti di Fiorillo di Carrara con il racconto dell'attività svolta a bordo di una goletta nell'ambito del progetto internazionale di verifica dei cambiamenti climatici attraverso lo studio delle gorgonie. Infine Lisi Marconi di Viareggio con i ragazzi che hanno seguito gli scavi del sito archeologico di Luni condotti dall'Università di Pisa. Per la sezione licei ad aggiudicarsi il premio il Gentileschi di Carrara con la realizzazione dell'opera Art School on Walls un grande murales all'interno della scuola legato al percorso multidisciplinale incentrato sul marmo. Progetto che ha vinto anche il premio a livello nazionale conferitoli da Union Camere. La cerimonia di premiazione è stata anche l'occasione per l'open day dei corsi della Fondazione ITS per corsi di studio che le Camere di Commercio stanno promuovendo per la formazione di personale specializzato. Noi come Camera di Commercio stiamo lavorando assiduamente su questo discorso dell'alternanza scuola lavoro perché ci rendiamo conto che tanta mano d'opera qualificata che le nostre imprese vorrebbero assumere, avrebbero bisogno di assumere, non si riesce a trovare. Quindi è importante fin da subito che si capisca qual è anche l'esigenza delle imprese che le scuole e gli ITS lavorino per formare quelle figure professionali che mancano.